Tanti tanti anni fa gli uomini vivevano, o meglio sopravvivevano, in villaggi isolati. Il giorno seguiva la notte, non c'era l'elettricità. Le stagioni erano quelle che permettevano l'agricoltura. Sacrificavano agli dèi e auspicavano di avere un destino felice. Le tre parche decidevano i destini della vita. La prima filava il filo, la seconda ne decideva destini e durata, e la terza lo recideva. Saccheggi, schiavitù, violenze, erano il modo in cui l'uomo poteva arricchirsi, sottraendo ad altri. Questo era una cultura, una vita stanziale, isolata. Sacrifici agli dèi, fruttamento e schiavitù. Ma l'umanità è cambiata, è cambiata grazie alla filosofia. È cambiata perché qualcuno a un certo punto ha concepito l'idea del nulla assoluto, da cui è venuto poi un concetto. Questo concetto è lo zero, il numero zero. I mercanti arabi, che viaggiarono verso l'India, insieme alle spezie portarono il lavoro, il pensiero, gli scritti di Brahma Gupta, un matematico indiano che intorno al 650 d.C. introdusse lo zero nella matematica. E se noi oggi diciamo 610 per dire non vali nulla, in realtà zero vale tantissimo. Questo numero sostituì, diciamo, la numerazione indo-araba, le lettere dei romani e le limitazioni che la numerazione per lettere ci dava. Muhammad Al-Khawarizmi, in latino algoritmi, è un matematico arabo che nel nono secolo fece l'algebra e fece le prime equazioni. Voi vedete 0-1 algoritmi, oggi, il vostro telefono, le possibilità, i computer, vengono da lì, attraverso i mercanti arabi dall'India verso l'Europa, che a volte pensa di essere l'unica culla della civiltà. Lorenzo Pisano, detto Fibonacci, nel 1202 scrisse il Libera Baci, che portò in Europa la divulgazione della matematica degli arabi. Questo perché aveva seguito il padre, Bonaccio, Fibonacci sta per figlio di Bonaccio, in Algeria, dove aveva scoperto la matematica araba e lo zero. Aveva scritto questa opera che poi Federico II prese, divulgò ulteriormente, perché quest'opera, Libera Baci, non parlava solo di matematica teorica, parlava di applicazioni, parlava di come calcolare l'interesse, parlava di come fare le costruzioni. E 250 anni dopo, Benedetto Cutrugli, scrisse l'arte della mercatura, a cui io mi sono ispirato poi per il mio libro prima citato, L'arte della start-up. L'arte della mercatura è il primo trattato sulla arte del commercio. Perché quest'arte del commercio è importante? Perché il commercio, al contrario, diciamo, del saccheggio, è mutualmente benefico per chi lo fa, mercante, e comporta il rischio, comporta i viaggi. Tant'è che si ispirò, diciamo, per questo libro al mercante Cosimo de' Medici, che, come sapete, ebbe un certo ruolo nello sviluppo della cultura del Rinascimento. E lo stesso Cutrugli scrisse poi, 15 anni dopo, il Denavigazione, che è il primo trattato noto europeo sulla navigazione. Questo perché nel suo libro dice che il mercante deve conoscere le arti liberali, il quadrivio e il trivio, ma deve avere anche nozioni pratiche, e fra queste nozioni pratiche è anche la conoscenza della navigazione, per poter viaggiare, per poter pensare ai noli, per sapere da dove vengono le merci e come raggiungerle i costi e i rischi che comporta questo. Quindi andare oltre l'ignoto. Da questo Rinascimento, nel 1492, le scoperte geografiche, il nuovo mondo di Colombo, le scoperte artistiche e scientifiche di Leonardo, la Gioconda viene terminata nel 1506, e nel 1512 è Copernico che fa una rivoluzione nella cosmografia. Come vedete sono anni vicini, questo Rinascimento. L'impresa è il mercante al centro di questa rivoluzione dell'andare oltre l'ignoto, fra la scienza e la conoscenza, fra il viaggiare, la volontà, la volontà che viene fuori dal destino, e la volontà di fare le cose e pensare di essere fattori del proprio destino, calcolare il rischio e quindi poi l'assicurazione, la mutualità, la possibilità di fare le cose, perché il rischio veniva diviso, la probabilità. Tutto questo prima dello zero non era possibile. E quindi oggi, 2018, siamo nel paradiso terrestre, sappiamo tutto, abbiamo imparato tutto, e il Rinascimento è qua in mezzo a noi e in tutta la nostra vita. Ma 190 milioni di europei non sono mai andati fuori dai confini del proprio paese. Il 37% in media, il 52% se parliamo dell'Italia sola, non è mai uscito per andare in un altro paese. Questa è una ricerca europea. Non lo so se poi la domanda l'hanno fatta proprio bene, qualcuno in realtà è andato in vacanza a Cuba o a Sharm el-Sheikh, che non è parte dell'Unione Europea e quindi è andato fuori dal confine del proprio paese. Ma diciamo che è una buona approssimazione. Solo il 16% degli italiani va tutte le volte, tutti gli anni, almeno una volta, in un altro paese europeo. Quindi non abbiamo smesso di essere del tutto isolati. Ben 13 milioni di italiani ogni anno si rivolgono a maghi e fattucchiere per farsi predire il futuro, per un giro d'affari stimato di 8 miliardi. Ci sono, stimate dati di una ricerca su capolarato e agromafie, 400.000 persone sfruttate, italiani e stranieri, per un giro di 16 miliardi all'anno. Dalla Nigeria, ma non solo, ma è il caso della Nigeria particolare, della mafia nigeriana, con i riti voodoo, ci sono le schiave del sesso, che ci sono perché c'è anche la domanda, perché se non ci fosse la domanda, l'offerta non ci sarebbe, che vengono sfruttate lungo le strade. E i saccheggi forse sono meno spettacolari, meno violenti di quelli del passato, ma ci sono sempre, perché Madoff con lo schema Ponti, la Parmalat o altri casi come quelli di Errono o di varie banche ci dicono che i saccheggi non sono terminati. Quindi ancora vita isolata, credenze, sfruttamento, schiavitù e violenza. Ma non è finita qua. Noi siamo gli eredi di cultura, bellezza, conoscenze. Possiamo oggi spostarsi facilmente, anche a basso costo, ma possiamo anche andare oltre i confini della Terra, verso l'ignoto. E quella è un'immagine della sonda appena atterrata su Marte. Incredibile. Franz Johansson ha scritto un libro, Effetto Medici, in cui dice che la novità, le innovazioni, nascono all'intersezione fra culture liberali e culture scientifiche, fra artisti e scienziati. E ha chiamato questo Effetto Medici perché era nella Firenze dei Medici che questo per la prima volta nel Rinascimento è veramente avvenuto, questa intersezione, questa contaminazione dei saperi. Quindi abbiamo davanti a noi grandi possibilità, grandi sfide. Questo è un quadro di Rembrandt che ci pongono davanti la possibilità di fare un nuovo rinascimento. Ed è l'imprenditore che, prendendo dei rischi, perché impresa e impresa usano la stessa parola, ma è come fare l'impresa e creare un'impresa, cioè un'attività commerciale, prendere rischi. Chi lavora con onore prende dei rischi, ci mette la faccia, non è uno sfruttatore, non è uno speculatore. E quindi mi viene da citare un grande italiano, Adriano Olivetti, e vorrei leggervi un piccolo parte di una sua libro. Dice Adriano Olivetti Attraverso il rigoroso rispetto della cultura a tutti i livelli della vita di fabbrica noi abbiamo favorito il risplendere dei valori spirituali, la testimonianza della bellezza, il calore della tolleranza, la limpida supremazia della scienza. E Adriano poi diceva, sempre citando suo padre Camillo, la verità risplende solo nei fatti, non nelle parole. Io credo che questo sia un grande, grande esempio, ancora, diciamo, fruibile e mettibile in pratica. E quindi è il momento di lasciare gli ormeggi, di non avere paura di andare verso degli ignoti, di affrontarli insieme ai nuovi imprenditori, e fare la propria parte. Perché la grandezza sta nel provarci, la grandezza sta nella lotta, la grandezza sta nell'iniziare qualcosa che non finisce con noi. E quindi il mio auspicio è abbiate coraggio, andate e abbracciate il mondo. Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.